presentate le candidature per le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile tre i candidati presidenti 13 le liste molte le riconferme l'associazione penelope ha riavviato oggi e domani le ricerche dell'anziano di moliterno rocco jacovino in basilicata sono 1155 le persone scomparse dal 1974 all'anno scorso bonus acqua sono 10.000 gli utenti di acquedotto lucano che hanno superato i controlli 2.000 le domande respinte intanto le perdite idriche in basilicata raggiungono il 65,5 per cento media show e il giovane studente mauro strignano di barletta il vincitore dell'edizione 2024 dell'olimpiade multimediale organizzato a melfi dall'istituto federico secondo di sveria calcio serie cifici erano da pochi minuti in campo al curcio c'è in latina melandrini in cerca di riscatto dopo il cappa o nel derby con potenza leoni attesi invece domani da cerignola buon poveriggio dallo studio della nuova tg per ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale lo ascoltavamo dai titoli in primo piano ci sono le elezioni regionali 13 dunque le liste presentate a supporto delle candidature alla presidenza di vito bardi piero marrese e ustacchio follia in cerca di riconfermi cinque componenti della giunta oscente e 18 consiglieri della sise regionale su 20 sentiamo michelangelo russo 13 liste per tre candidati alla presidenza si è conclusa a mezzogiorno la fase di deposito delle liste per le candidature alle elezioni regionali che si svolgeranno il 21 e 22 aprile prossimi nessuna sorpresa per quanto concerne i tre candidati governatori vito bardi per il centrodestra piero marrese per il centrosinistra e ustacchio follia per volta a supporto del governatore uscente complessivamente sette liste oltre a quelle dei partiti forza italia lega fratelli d'italia udc e azione ai nastri di partenza ci saranno anche due liste civiche la vera basilicata e orgoglio lucano con diversi militanti di italia viva il presidente della provincia di matera invece sarà accompagnato in questa sfida da 100 candidati nelle due circoscrizioni e cinque simboli e ustacchio follia invece correrà alla carica di presidente della regione con una sola lista e centrodestra insieme a bardi candidata tutta la giunta oscente fanelli e sileo con la lega latronico e galella con fratelli d'italia casino con forza italia altro dato curioso fatta eccezione per gianni perrino del movimento 5 stelle carlo trerotola di prospettive lucane hanno deciso di puntare alla riconferma tutti gli attuali componenti dell'assise regionale punteranno a un posto nel parlamentino regionale anche quattro assessori ormai uscenti del comune di potenza in campo infatti sia il vice sì napoli con fratelli d'italia blasi della lega sia sagarese e picerno di forza italia dall'esecutivo bennardi invece schierati con i 5 stelle tiziana doppido e antonio materdomini nelle liste del centro-sinistra non ci sarà il presidente dell'anci andrea bernardo ci saranno i segretari di psi livio valvano di europa verde giuseppe di giglio lindo monaco coordinatore di basilicata casa comune le due coordinatrici provinciali del movimento 5 stelle alessia araneo e viviana verri voltiamo pagina dal 1974 alla fine del 2023 sono 1155 le persone scomparse e mai ritrovate in basilicata a rendere noto il dato è l'associazione penelope che per oggi e domani ha organizzato nuove ricerche di rocco infantino l'anziano scomparso da moliterno cinque mesi fa fabrizio di vito scomparse e mai più ritrovate in basilicata dal 1974 alla fine del 2023 si contano 1155 persone mai rintracciate un dato davvero allarmante quello reso noto dall'associazione penelope che ha organizzato per oggi e domani una nuova battuta di ricerche per rocco jacovino l'83ne di moliterno scomparso lo scorso 19 ottobre ricerche che ripartiranno da contrada sorgituro nel punto in cui era stata ritrovata l'auto dell'anziano in una zona impervia dove si era recato a raccogliere castagne dopo la scomparsa le ricerche dell'83ne erano andate avanti per un paio di settimane ma senza esito a fine novembre per consentire l'effettuazione di nuovi importanti accertamenti e ascoltare persone informate sui fatti la procura di lago negro aveva deciso di aprire un fascicolo contro ignotico l'ipotesi di sequestro di persona rocco jacovino quel 19 ottobre aveva programmato di trascorrere la giornata in campagna ma poi aveva deciso di cambiare itinerario andare prima a raccogliere castagne in una zona boschiva distante circa 5 chilometri dalla sua iniziale destinazione tra contrada sorgitura e località papa nicola una telecamera di video sorveglianza aveva ripreso la fiat panda guidata da rocco jacovino lungo la strada da percorrere per raggiungere poi la zona dove effettivamente è stata ritrovata l'utilitaria la vettura era parcheggiata nei pressi di un sentiero molto ripido e scosceso che ad avviso dei figli rocco non avrebbe mai intrapreso seppur ancora agile in buona salute al momento l'ipotesi prevalente resta quella di una caduta in una zona impervia legata ad un malore ad un incidente ma il mancato ritrovamento del corpo lascia aperta ogni altra pista solo nel 2023 in basilicata le denunce di scomparsa sono state 457 138 le persone ritrovate di cui tre senza vita restano ancora da trovare 313 persone in gran parte si tratta di stranieri e minori non accompagnati richiesta passaporti anche la questura di potenza a seguito dell'iniziativa varata dal ministero dell'interno ha avviato una nuova procedura introducendo un'agenda prioritaria il nuovo canale di prenotazione disponibile sulla piattaforma passaporti.polizia.it consente al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 o 15 giorni per viaggi connessi a motivo di lavoro studio turismo e salute di prenotare un appuntamento l'utente dovrà presentarsi poi presso l'ufficio passaporti portando con sé anche la documentazione attestante l'esigenza di rilascio prioritario nel caso non si dovesse trovare un appuntamento disponibile attraverso tale canale coloro che si trovino nella necessità di partire entro 15 giorni avranno la possibilità di scaricare online il modulo da compilare stampare ed esibirà lo sportello dell'ufficio passaporti congiuntamente la documentazione richiesta per venire incontro alle necessità dell'utenza la questura di potenza ha ampliato gli orari di apertura al pubblico l'ufficio è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12 martedì dalle 9.30 alle 12 dalle 15.30 alle 17.30 mercoledì dalle 9.30 alle 12 giovedì dalle 9.30 alle 12 dalle 15.30 alle 17.30 sono 10.000 gli utenti di Acquidotto Lucano che hanno superato i controlli e che nei prossimi giorni potranno ottenere il bonus acqua in bolletta 2.000 domande respinte per mancanza di requisiti intanto la Basilicata continua a fare acqua le perdite idriche raggiungono il 65,5 per cento con potenza maglia nera sentiamo Lucia Pietrafesa la Basilicata continua a fare acqua secondo gli ultimi dati dell'Issat le dispersioni nel 2022 hanno raggiunto la quota del 65,5 per cento contro una media nazionale del 42,4 per cento potenza guadagna la maglia nera raggiungendo una percentuale del 71 per cento meglio Matera dove la dispersione idrica si è ridotta di tre punti percentuali scendendo al 55 per cento intanto Acquidotto Lucano ha fornito i dati sugli utenti che hanno aderito all'iniziativa ribattezzata bonus idrico in 10.000 hanno superato i controlli e riceveranno nei prossimi giorni la riduzione in bolletta 2.000 invece le domande respinte per mancanza di requisiti secondo i dati forniti dall'Adoc l'acqua in Basilicata per una persona che vive da sola costa circa 3 euro per metro cubo sempre che consumi un massimo di 55 litri di acqua al giorno un alto costo legato alla scellerata gestione delle risorse idriche con gli utenti costretti a pagare a persona più del doppio dell'acqua che consuma per l'associazione dei consumatori occorre una progettazione complessiva che preveda interventi mirati alla sostituzione di tratti di condotta ammalorata in modo da contenere la spesa e garantire più efficienza all'intera rete di distribuzione soltanto un paio di giorni fa la regione ha annunciato una serie di attività nell'ambito della strategia di contrasto al fenomeno allo stato attuale 18 e comuni lucani interessati da interventi di manutenzione straordinaria sulle reti compreso il capologo di regione con l'obiettivo finale di intervenire anche sulle bollette ma evidentemente è ancora troppo poco giornate fai di primavera visite guidate oggi e domani in 55 siti scelti per la 32esima edizione della manifestazione a potenza questa mattina porte aperte al palazzo della prefettura in piazza mario pagano con il tour affidato agli apprendisti ciceroni del liceo classico quinto razio flacco di potenza per edizione di quest'anno dedicato uno spazio importante all'agricoltura come primo gesto di cura e tutela del paesaggio nell'elenco dei siti visitabili gratuitamente infatti rientrano anche il pistacchieto sulla valle del sauro a stigliano nel materano o i luoghi di produzione di calciano città del miele il vitigno autoctono della vulture melfese a barile tra gli altri siti c'è sempre casanoa a matera aperta per il decimo anno ed unico bene del fai nazionale presente in regione e per la prima volta il palazzo della prefettura come vi dicevamo vicino all'ala occidentale dell'ex convento di san francesco il cui chiostro sarà accessibile al pubblico nella visita si potranno apprezzare anche gli arredi e le opere d'arte presenti attraverso il palazzo del governo che passa la storia d'italia ha detto il prefetto campanaro contento di far di far visitare la struttura alla comunità media show è il giovane studente mauro strignano di barletta il vincitore dell'edizione 2024 dell'olimpiade multimediale organizzata a melfi dall'istituto federico secondo di svevia sentiamo vittorio laviano e mauro strignano del liceo carlo cafiero di barletta lo studente che ha vinto l'edizione 2024 del media show organizzato dall'istituto di istruzione superiore federico secondo di svevia melfi ascoltiamo il ragazzo amo il mondo del video editing e devo molto di quello che è stato questo video soprattutto a quello che è la mia vita sono uno scout da barletta sono anche un canottiere e solo un alunno ho voluto dare un attimo di valorizzazione al territorio e devo essere sincero ho dei grandi ringraziamenti da fare anche all'accoglienza ad alessio che è stato il mio cameraman che voglio citare è stato un video che porta molto della mia personalità dentro di esso quando noi immaginiamo una scuola nel futuro vogliamo immaginare sempre qualcosa di utopistico scuole probabilmente piene di oggetti che vengono dal futuro invece la scuola che io voglio per il futuro è una scuola platonica fra virgolette una scuola che abbia l'idea di uno studente di uno di alunni felici che possono spoggiare le loro ali verso il futuro giuseppe romaniello il presidente della giuria che ha premiato gli studenti nell'aula consigliare nitti bovè alla presenza tra gli altri di nicola cavallo presidente del media show e prorettore unibas di giro fanelli vescovo della diocesi di melfi rapolla venosa debora infante dell'ufficio scolastico regionale prospero ormentano dirigente del federico secondo media show è un esercizio di contemporaneità un esercizio di futuro un esercizio di scoperta di linguaggio è un ascolto di come i ragazzi vedono il futuro e guardano al con speranza al futuro anche con preoccupazione quest'anno il tema era particolarmente significativo perché lavorava sul tema della felicità il ruolo della scuola per costruire il benessere l'essere bene essere per bene volere il bene e volere amare il pianeta e su questo i ragazzi hanno risposto con grande generosità con grande ironia anche con quel qualche vena di pessimismo ma sempre nello sforzo nella capacità di costruire una risposta alle attuali contraddizioni aree verdi e parchi attrezzati il comune di potenza ha presentato il piano di riqualificazione di alcune zone della città 16 gli interventi programmati in altrettante aree del capoluogo per dar luogo al ripristino alla tutela delle risorse ambientali secondo quanto previsto dalla legge regionale 53 del 2021 si tratta della prima fase del piano suddiviso in tre annualità per un investimento complessivo di 2 di 6 milioni di euro le zone interessate sono parco tre fontane via brescia piazzale pescara via ossa via le dante via bertazzoni parco miralles via angilla vecchia parco via tirreno piazza zara parco del fiore bianco parco dell'europa unita via anna maria ortese parco montreale via londra e via mediterraneo e siamo allo sport calcio serie c da pochi minuti in campo il picerno che cerca contro il latina l'immediato riscatto dopo il cappa o nel derby con il potenza di lunedì scorso sentiamo donato valvano dal derby perso contro il potenza al match di sabato contro il latina per cercare il riscatto che la settimana del picerno sia stata leggermente più corta rispetto al solito potrebbe essere un fattore che potrebbe giocare a favore della formazione di mister longo dopo una sconfitta a maggior ragione in un derby o comunque in una gara particolarmente sentita tornare in campo in fretta potrebbe risultare l'antidodo migliore contro la delusione una voglia di riscatto che si è alimentata giorno dopo giorno ma che non deve diventare smania o addirittura ossessione la ferita del match perso contro il potenza ancora aperta ma la sfida contro i pontini impone di rivolgere lo sguardo in avanti la quarta posizione in classifica e i 54 punti devono solamente contribuire a rasserenare tutto l'ambiente circa lo splendido cammino realizzato finora mister longo si augura che soprattutto a livello mentale i suoi ragazzi abbiano assorbito la botta e abbiano ricaricato le batterie soprattutto a livello nervoso per affrontare il latina innanzitutto ma anche le altre gare che restano per chiudere la stagione regolare con la giusta fame di chi vuole continuare a rimanere lì in alto senza accusare vuoti d'aria a disposizione ci sono 18 punti e ci sarebbe sempre l'obiettivo dei 59 punti della passata stagione da battere gli stimoli in questo finale di stagione di certo non mancheranno soprattutto per arrivare allenati alle sfide da dentro o fuori che aspetteranno esposito e compagni nel mese di maggio il potenza scenderà in campo invece domani alle 16 e 15 in caso del cerigno la gara che la nuova tv trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro con un ampio prepartita a cominciare dalle 15 e 30 dopo il derby con il picerno i ragazzi di marchionni si apprestano a vivere un finale di stagione con l'obiettivo primario di raccogliere punti per chiudere quanto prima il discorso salvezza poi si può pensare ad altro come ha sottolineato il tecnico del potenza marchionni nella conferenza stampa prepartita vediamo da quando sono arrivato l'obiettivo mio era quello ho sempre detto perché altrimenti non avrei mai accettato a me piace essere ambizioso ma sono anche realista abbiamo fatto troppi passi falsi troppo altalene quindi io ho detto alla squadra che la fortuna nel calcio è che uno non esclude l'altro e lo può anche escludere quindi se noi dovessimo fare risultato la salvezza la metti da parte e alla poi essere ambizioso fino alla fine quindi io purtroppo adesso sono realista quindi vedendo queste altalene gli ho detto alla squadra che prima bisogna tappare il buco dietro per poi pensare a qualcosa di più grande è naturale che attappando il buco dietro ti si apre in questo in questo momento ti si apre veramente il davanti perché se dovessi fare risultato pieno vuol dire che non dico la matematica certezza è arrivata ma diciamo al 99 per cento possiamo metterla da parte e quindi allora potremmo pensare esclusivamente a un obiettivo unico perché poi in due punti tre punti ci sono veramente tantissime squadre ma dipende da quello che faremo domenica ogni partita ora è arrivata arrivato un momento che ogni partita può dirti veramente cosa andrà a fare domenica 24 marzo trentatresima giornata di serie c mettiti comodo e segui con noi cerignola potenza a partire dalle 15 e 30 ampio prepartita le emozioni dei 90 minuti e le interviste post gara in diretta esclusiva in chiaro solo sulla nuova tv canale 82 del digitale terrestre in basilicata e puglia ti aspettiamo weekend sportivo con pochi appuntamenti nella serie di di calcio anticipo per il matera che dopo il roboante 4 a 0 di della settimana scorsa va a far visita alla palmese per consolidare la posizione playoff per la palla spicchi nel campionato di serie c campana campano c'è il derby tutto potentino tra academy e university alle 18 e 30 al pala pergola derby anche per la pallavolo di serie c maschile con il match tra la dac e psa matera e la gruppo macchia virtus potenza rispettivamente prima e seconda nel girone pugliese in campo femminile nei gironi play out la pm volle ospita il san castiano mentre il matera riceve il tricase nuoto ancora un successo per dominico acerenza nella prova della 10 chilometri di coppa del mondo che si è disputata in egitto il nuotatore di sasso di castalda ha chiuso davanti a tutti con un crono di un'ora e 55 minuti 26 secondi secondo giorgio patrinieri mentre il podio tutto azzurro è stato completato da dario verani in chiusura una notizia di servizio in occasione dell'evento inaugurale di potenza città italiana dei giovani 2024 che prevede tra l'altro un appuntamento musicale in piazza matteotti nella giornata di oggi il sindaco di potenza ha disposto all'apertura dell'impianto scale mobili santa lucia fino alle 2 di notte il parcheggio a vale dell'impianto su viale dell'unicef è gratuito è tutto per questa edizione noi ci rivediamo alle 19 grazie per l'ascolto a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata